Un avvio positivo, quello della Tripalda Volley, che nonostante il cambio in corsa in panca con l'avvento di Romano al posto di Lauri, ha saputo rialzare la testa. Matarazzo e compagni hanno conquistato sei punti e sono attualmente undicesimi in graduatoria, dividendo la posizione in classifica con i colli Aminei. Soddisfatto il capitano Matarazzo. Un bilancio, credo che sia un bilancio positivo, tutto sommato a parte l'ultima partita siamo sempre andati a punti e con vittoria, quindi credo sia un bilancio positivo, ci aspettavamo comunque un inizio difficile, una squadra completamente nuova con giocatori e ruoli completamente nuovi, quindi positivo, un bilancio positivo. Adesso per la prossima cargo Ischia, cosa vi aspettate? Allora, Ischia è una trasferta molto molto impegnativa, non c'è sempre da stare attenti con Ischia. Per la gara contro gli Solani, attualmente quarti in classifica, il coach dei Sabatini Romano recupererà De Palma.